Buonasera, benvenuti ancora a Sei in Salute. Il nostro salotto televisivo in cui si parla di medicina, benessere e salute. Questa sera parleremo di fisioterapia di recupero post-traumatico anche per quanto riguarda la riabilitazione sportiva. E lo faremo con il nostro ospite di questa sera, il dottor Andrea Currò, specialista in massoterapia e fisioterapia, terapia e riabilitazione sportiva. Benvenuto. Esatto, grazie, buonasera. Benissimo, ecco facciamo un po' di chiarezza, spesso a casa non si capisce bene massoterapia, fisioterapia, sono discipline diverse? Sono discipline diverse ma complementari nello stesso tempo, permettono di diversificare il tipo di lavoro a seconda del problema che il paziente ha incontrato in quel momento. Allora, la fisioterapia è una specialità che porta il paziente attraverso una serie di esercizi guidati, controllati, gestiti dal terapista in maniera attiva resistenza e incontro resistenza a portare in recupero un'azione motoria. Può essere un trauma di una spalla, quindi si porta il paziente gradatamente a riportare il range di movimento completo. Si cerca di lavorare su un'azione in contro resistenza, quindi con dei pesi, con dei elastici, quindi il fisioterapista aiuta il paziente a recuperare un gesto atletico, un gesto motorio a seconda del trauma che ha ricevuto. La massoterapia invece, la massofisioterapia è invece una tecnica specifica dove lavora proprio a livello massaggio, quindi massoterapico, da un professionista che va a portare gradatamente a livello muscolare una decontrazione, lavorare sui punti trigger, quindi punti contratti della parte che deve essere trattata e aiuta il fisioterapista a recuperare prima l'atleta. Qual è il vantaggio? Che ormai queste due tecniche si fondono assieme, quindi fisioterapia e massoterapia viaggiano assieme, molte volte il fisioterapista è anche massoterapista e viceversa. L'importante è che il paziente si affidi sempre a dei professionisti, perché a me capita spesso di trovare persone che sono andate dai professionisti, chiamiamoli così, non proprio neanche iscritte a un albo, che si improvvisano massaggiatori perché pensano che aver fatto un corso di due settimane oppure nei weekend possa permettere di poter trattare un paziente, perché tanto si tratta di muscoli, ma spesso e volentieri queste persone vanno a creare più problemi di quello che non avrebbe un paziente andando subito da un professionista. Ovviamente è una specialità universitaria. È una specialità che è diventata poi una laurea breve e richiede ovviamente parecchie ore di formazione, perché ovviamente devi conoscere il corpo umano, non è sufficiente massaggiare. Io ho visto purtroppo persone che vengono nel mio studio e quando poi scambi due parole con loro scopri che quello che la trattava non sapeva neanche che cosa stava facendo esattamente. Quindi diventa complicato poi per il paziente recuperare e fare ordine. Ormai tutti si improvvisano massaggiatori e bisogna cercare di fare selezione su questo, è importante. Ecco, in quali patologie problematiche viene utilizzata la fisioterapia e la massofisioterapia? Allora, in tutta la traumatologia, dalla più semplice cervicalgia muscolotensiva, che è la più comune per le posture che noi abbiamo anche soltanto guardando un cellulare, noi guardando un cellulare carichiamo a livello delle vertebre cervicali 26 kg. Uno non immagina. Se io sto così, praticamente abbiamo quasi zero. Se io incomincio a lavorare in questa maniera con un cellulare o un tablet, il punto delle ultime vertebre cervicali, quindi C4, C5, C6, C7, hanno un carico di 27 kg. Come se fosse una persona che spinge 27 kg su quelle vertebre. E a lungo andare non va benissimo. No, certo. Infatti le posture più corrette, quando uno lavora su computer o quant'altro, sarebbe avere il monitor frontale e non basso. E queste patologie sono patologie le più frequenti, come il mal di schiena, spalle. Quindi sono tecniche che si adoperano su tutto. Ecco, poi le farò un'altra domanda. Ma come si svolge una seduta di fisioterapia? Una seduta di fisioterapia è una seduta che si basa proprio a seconda di quello che uno deve ottenere, di fare tutta una serie di esercizi in resistenza, controresistenza e anche completamente in rilassamento per portare il range del movimento dell'atleta o del paziente direttamente al range normale. Quindi usando elastici, pesetti, se sono traumi a livello della caviglia si usano delle tavolette che servono per stimolare la propria accettiva, che sono tutta una serie di meccanismi di recupero non pensato, perché agiscono in maniera inconscia, sulla stabilizzazione del passo. La fisioterapia è molto complessa nel suo insieme. Semplice da dirsi, ma complessa nell'applicazione. Ovviamente poi varia da caso a caso. Assolutamente sì. Ecco, è un lavoro d'equipa anche con altri specialisti, prima di tutto l'ortopedico immagino. Certo che sì. È un lavoro di team, è un lavoro di squadra. Purtroppo ultimamente abbiamo visto che per tutta una serie di problematiche che possono venire a crearsi nel sistema del Servizio Sanitario Nazionale si dicono vado a casa, faccio un po' di esercizi e quindi il paziente è un po' disorientato. Serve meglio se il professionista, l'ortopedico o quant'altro indichi al paziente di andare subito in un centro di fisioterapia, qualsiasi o di sua fiducia, e incominciare un piano terapeutico per recuperare la svelta, perché recuperi molto più alla svelta un paziente. Se invece lo si lascia un pochettino a sé, il paziente ovviamente ha delle difficoltà, non fa esercizi in maniera corretta, non viene guidato a fare esercizi in maniera corretta e porta inevitabilmente a rallentare i tempi di recupero. Assolutamente sì. E a quali risultati concreti si può arrivare con la fisioterapia? Il recupero del 100% della traumatologia, la funzione. Poi ovviamente dipende che tipo di lesione ha avuto. Certo, assolutamente. Esatto, bisogna comprendere quanto è problematica la lesione. No, 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 certo, assolutamente. Perché se è una cosa lieve lo recuperiamo, ma se uno ha avuto un incidente grave tutto quello che arriva è tutto buono. Ecco, ovviamente come dicevamo prima, ogni paziente è diverso da un altro. Com'è che viene steso, su quali criteri, su quali indicazioni viene steso il piano terapeutico per ogni singolo paziente? Viene fatta un'anamnesi fondamentale del paziente con una sua storia, come è successo, quando è successo, se ha avuto interventi, una storia e si vede con dei goniometri, si vede in quel momento che livelli ha di mobilità. Se si tratta di una spalla, di un gomito, di un polso, di un ginocchio, di un'anca, si vede assieme cosa riesce in quel momento a fare. Sulla base di questo poi si comincia a fare un piano terapeutico utilizzando apparecchiature, spesso anche che aiutano noi fisioterapisti a recuperare prima il paziente, che possa essere diatermia ad alta frequenza, che è una macchina di nuova generazione che ormai ha superato la validissima, ma ormai è superata a Tecar, accelerando i tempi dell'80% sul recupero di un paziente. Saccaspita, non poco insomma. Non poco, io recupero pazienti in 5-6 sedute. Ah, molto bene. Ecco, ma vengono utilizzati farmaci o sostanze medicamentose? No, queste tecniche sono tutte manuali e queste apparecchiature sono tutte apparecchiature che hanno azione endogena del calore, quindi è il corpo che sviluppa calore e permette di avere funzioni combinate, quindi un'azione antidemigena, quindi se c'è un edema aiuta a risolverlo, assorbirlo, se c'è uno stato infiammatorio riduce lo stato infiammatorio, ha un'azione mio rilassante, quindi distende le fibre e rigenera i tessuti in caso di lesione muscolare. Quindi queste funzioni vengono unite in un'unica seduta e ha accelerato tantissimi tempi di recupero. Quindi c'è l'ausilio di macchinari particolari? Macchinari particolari, poi se c'è da usare dei farmaci vengono prescritti dal medico e allora in questo caso si usa la classica ionoforesi che ormai è un po' superata, oppure l'elettroporazione. L'elettroporazione è una tecnica di evicolazione del farmaco attraverso i canali ionici della pelle, cioè c'è una corrente bifasica, è un po' un tecnicismo, però continua a cambiare la sua polarità positivo-negativo e permette di aprire i canali ionici della cute, fa veicolare il farmaco e poi la cute, finito questo impulso, dopo 15 minuti si richiudono spontaneamente. Quindi siamo veramente aiutati molto ormai dalla tecnologia, delle nuove macchine che ci sono. Ovviamente sempre dietro prescrizione medica? Quando ci sono farmaci assolutamente sì. Che però manipolate voi, direttamente voi i fisioterapisti? Sì, seguiamo noi, sì sì, assolutamente, sempre professionisti. Una domanda veloce, prima di passare la linea alla pubblicità, lei all'inizio mi ha parlato di un vero e proprio albo per i… Sì, esiste la Federazione Italiana Fisioterapisti, l'AIFI, poi c'è l'FNCM, che è la Federazione Nazionale Collegi Masso Fisioterapisti, poi ce ne sono diversi in Italia, i più importanti è l'AIFI, quella in cui la maggior parte di noi siamo iscritti e la FNCM che unisce le due figure che anche qui la maggior parte di noi sono iscritti. Sarebbe da fare un po' di ordine anche qua, a livello legislativo. Non è un vero e proprio ordine come me, quello dei medici, quello… Ale però è un'associazione che insomma ti qualifica comunque… Ci qualifica, noi vorremmo una realtà come quella dei medici, ma non siamo ancora riusciti ad ottenerlo. E i nostri validi presidenti della nostra corporazione stanno facendo di tutto per ottenerlo, ma è faticoso, è buro vero chiaramente parlando. Niente, io adesso do la linea alla pubblicità, ma tornate subito qui con il dottor Curro, perché poi parleremo anche di osteopatia, perché so che lei è anche osteopata. Esatto, sì, e non finiamo mai di studiare noi. Quindi magari ci introduce anche in questo nuovo mondo che molti conoscono, ma non è proprio particolarmente conosciuto. Certamente, più che volentieri. A presto! Bentornati qui in studio con Sei in Salute. Questa sera stiamo parlando di fisioterapia con il dottor Curro, il nostro ospite. Parliamo di osteopatia. Mi aggiunto che cos'è, perché molti osteopata, osteopata, non è che si sa molto bene cosa faccia. È anche una figura un po' particolare, che è arrivata da poco in Italia. Sì, neanche poi da poco. È conosciuta da poco. Ah, infatti. Però è da tanti anni che è in Italia e effettivamente c'è un po' di confusione su dire andare da un osteopata o da un chiropratico. Sono due figure che lavorano sul recupero muscolo-scheletrico del paziente. Il chiropratico fa un lavoro prevalentemente di trust, quindi manipolativo. Sono validissimi professionisti specializzati proprio esclusivamente nella manipolazione. Poi fanno anche altre cose, ma prevalentemente la parte manipolativa. mentre l'osteopata lavora sia sulla parte manipolativa sia sulla parte chiamata fasciale, viscerale, craniosacrale, che sono metodiche che si basano molto sulla percezione dell'osteopata sulla mobilità inconscia del corpo. Faccio un esempio. Allora, noi prendendo dei punti specifici che conosciamo, riusciamo a percepire il movimento proprio delle fasce, cioè il movimento che il nostro corpo ha in maniera spontanea. Questi movimenti che non possono essere percepiti così naturalmente, a noi danno dei segnali per capire quale gruppo muscolare è più teso rispetto a un altro e come lavorano le fasce, perché se sono sbilanciate, ovviamente dato che siamo perfettamente simmetrici, una parte lavora in un modo e l'altra parte lavora in un altro. Ovviamente. Quindi l'osteopatia lavora sia sulla parte viscerale, tessutale, sia su quella parte manipolativa. Spesso, ovviamente, noi troviamo, nel mio caso che sono specializzato sulle cervicali, specialmente troviamo cervicali completamente bloccate e sentiamo tutti i gruppi muscolari che stabilizzano un collo tesissimi. Allora, non possiamo andare subito a manipolare un collo in queste condizioni, dobbiamo fare in modo di far cedere prima la tensione muscolare per poi riuscire a cedere eventualmente a una parte manipolativa. Quindi noi non sempre lavoriamo sulla parte manipolativa immediatamente, possiamo arrivarci a seconda dei casi clinici e della condizione del paziente in quel momento. Poi l'osteopatia lavora anche sui bambini. C'è una mia collega che è con me in studio che lavora proprio sull'osteopatia neoinfantile. I bambini nascono ovviamente con parto spontaneo e ovviamente possono avere delle deformazioni del cranio per il passaggio che ha durante il parto e si riesce, sentendo il movimento del cranio, riuscendo a rilorare, si riporta perfettamente delle condizioni di normalità. Questo cosa permette? Permette che il bambino nasca con lo sviluppo normale e si evita che le parti nervose, quindi i nervi cranici, che poi escono dal nostro cervello, non vengono involontariamente compressi poi in seguito, perché poi il bambino può avere dei problemi futuri. Allora questa tecnica riporta una normalità, sia a livello del palato, a livello della mandibola, dell'occipite, quindi si sente e si lavora proprio con questo. Poi io lo faccio praticamente sugli adulti perché le mie mani sono troppo grandi, allora devo lavorare, lavoro più sugli atleti, quindi una parte strutturale già più impegnativa e spesso anche noi lavoriamo sempre sull'adulto, perché il cranio è plastico, ha delle mobilità che noi percepiamo e sulla sua mobilità riusciamo a capire quali blocchi può avere a livello poi del rachido e cervicale. Quindi su questa nostra sensibilità riusciamo a manipolare e lavorare sui tessuti per riportare di una condizione di normalità a un paziente. Cosa un po' complessa però, bene o male insomma, ma dicevamo che è una disciplina comunque che arriva dal mondo anglosassone. Sì, esatto, questo medico Arthur Steele che è quello che ha incominciato a fare i primi studi e sviluppare queste tecniche, poi si è perfezionata e poi c'è la scuola francese, la scuola americana, la scuola inglese, perché ognuno poi ha fatto delle sue correzioni, ma in ogni caso è validissima come metodica. Io riesco a recuperare cose pazzesche, io come anche me e anche tanti colleghi. L'Italia comunque si sta espandendo da pochi anni, come giustamente abbiamo detto, è arrivata però, insomma il boom, chiamiamolo così, non è abbastanza recente. È abbastanza recente, diciamo anche che purtroppo nelle altre parti del mondo l'osteopata è presente già nel reparto di neonatologia. o reparti di ortopedia, è già presente proprio come figura. In Italia non riusciamo ancora. Abbiamo sempre questi muri che ci impediscono di poter muoversi in un certo modo. Tra l'altro loro, sapevo che da molto recentemente hanno ottenuto un primo passo verso la creazione di un albo. Esatto, sì sì sì, siamo stati conosciuti anche come figura finalmente sanitaria, è già un grande passo, però abbiamo tante resistenze. Certo, immagino. Ecco, volevo invece soffermarmi un attimo sul recupero degli atleti. Lei lavora molto con gli atleti, quali sono i sport più che altro ha a che fare? Ma allora, noi nel nostro studio seguiamo tantissime tipologie di atleti. Noi seguiamo quelli che hanno più infortuni, sono quelli che fanno sport da contatto, è inevitabile, quindi calciatori, tanti. Poi abbiamo meno frequenti, ma comunque non da poco, anche chi fa crossfit. Sono pazienti che si sottopongono a degli stress muscolari non da poco e spesso se non vengono seguiti con attenzione vanno incontro a degli imprevisti non da poco. e poi seguiamo delle squadre di equitazione, quindi sia cavalieri che amazzoni e poi ballerine, tante ballerine perché comunque l'infortunio durante gli allenamenti è facile che ci possa essere. E poi, vabbè, podisti e quant'altro. Poi lavoriamo anche proprio sulla medicina dello sport, quindi idoneità sportiva, agopuntura, quindi tutte terapie non invasive che possono aiutare, quindi non dopanti, quindi omeopatia, agopuntura, cioè eschiamo di stare molto sul naturale e quindi seguiamo proprio tante esciatori. Poi quando finisce la stagione... Adesso giustamente, infatti gliel'avrei fatto più avanti, siamo sotto le festività natalizie, è il classico della vacanza in montagna, sciare, bisogna sempre stare un po' attenti, soprattutto penso nel riscaldamento, è una precivistica. Sì, esatto, ho fatto un'osservazione veramente utile, cioè spesso noi facciamo una vita sedentare, o comunque si va a lavorare, corriamo, però non facciamo un'attività che possa portarci all'uscita. Prendiamo gli sci, andiamo in montagna, al weekend e sciamo. Io quello che posso consigliare a tutti quelli che incominciano a sciare, sarebbe quello di fare un preallenamento prima per portare il corpo a far lavorare quei gruppi muscolari che poi verranno utilizzati durante la sciata. È un'altra cosa importante che uno sciatore ascolti il proprio corpo quando poi incomincia a sciare, perché se io sono stato fermo per mesi, poi incomincio a sciare e parto subito con una pista, chiamiamole nere, quelle lì più impegnative, il rischio è alto. È meglio abituare magari con delle piste più soft, che di un'abitudine riportare il corpo ad un tipo di lavoro, i muscoli a lavorare in una certa maniera, per poi gradatamente dopo qualche settimana rincominciare a fare le piste che abitualmente facevi. E poi, statisticamente, è stato dimostrato che la maggior parte degli infortuni succede dopo pranzo. L'abbiamo visto anche noi. Effettivamente è causato da diversi fattori. Uno, che è un atleta, è arrivato a usare tutta la mattinata sciando, quindi ha sviluppato acido lattico a livello muscolare e dopo mangiato il metabolismo, ovviamente porta più sangue allo stomaco, quindi minora i muscoli, i meccanismi proprio accettivi di risposta che sono fondamentali allo sci vengono a calare, l'acido lattico rallenta le risposte proprio muscolari e uno va incontro a degli infortuni più gravi. Allora, io quello che consiglio è, siete stanchi, sentite, non dite faccio l'ultima discesa, siete stanchi, fermatevi e il giorno dopo sicuramente sarà una migliore discesa. Questo vale anche per quelli che vanno a fare footing e passano dal divano alla maratola di New York. Assolutamente sì, tutti gli sport conviene riabituarsi per gradi e non partire di colpo. E poi, quando uno si ferma dopo un'attività intensa come quello dello sci o altre discipline, conviene integrare con degli integratori, come può essere del magnesio, che aiuta a recuperare prima. Ci sono adesso sul commercio delle tipologie di magnesio, non possiamo fare nomi, però che basta una bustina al giorno che ha un effetto immediato a livello metabolico. Anziché prendo tre volte al giorno e basta uno. Finito l'allenamento, lo prendi, poi ti rilassi e riesci ad avere un'attività. L'importante è anche lo stretching, spesso e volentieri, cosa che la vita tanca ha sottoscritto. Insomma, riprendere, andare a giocare a calcetto e poi rompersi i tendini. Sì, è vero. E' perché il muscolo perde capacità elastica. Stando fermo il muscolo perde capacità elastica. Per quello che conviene fare un'azione prescistica, un allenamento prescistico, incominciare a giocare a calcetto, vai e comincia a correre gradatamente un tot a settimana. Cioè, riportare il corpo a lavorare. In questa maniera riduciamo drasticamente gli infortuni. Ecco, prima di vedere la linea alla pubblicità, poi torneremo qua in studio e parleremo di questa tecnica che utilizzate voi in studio, che è la diatermina ad alta frequenza, che come stavamo parlando prima fuori dagli studi, dà dei grossi risultati. Sì, assolutamente. E parleremo anche poi invece dell'utilizzo delle vende elastiche. Sì, il vendaggio chinesiologico. Vengono utilizzate anche in questo caso dei buoni risultati. Assolutamente sì. Benissimo, io adesso do la linea a secondo blocco di pubblicità, ma tornate poi subito qui in studio, perché col dottor Curro parleremo ancora di fisioterapia e soprattutto di recupero funzionale al 100%. Al 100%. Al 100%. Al 100%. A presto. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, siamo parlando di fisioterapia col dottor Curro. Parliamo dei vendaggi. Di cosa si tratta, soprattutto come vengono utilizzati, quando? Allora, di vendaggi ne esistono tantissimi. Quelli più comuni sono il vendaggio funzionale e il vendaggio chiamato vendaggio chinesiologico, il kinetaping. Sono due tipologie diverse di vendaggi. Allora, il vendaggio funzionale è un vendaggio che si usano vendaggi elastiche adesive che vanno a sostenere al posto di un gesso o di una ortesi che va a stabilizzare la caviglia, va a stabilizzare, ad esempio, una caviglia, come ho detto prima, un trauma distorsivo, lo vanno a stabilizzare e permettono all'atleta di continuare a allenarsi senza andare a incidere sul trauma stesso. Quindi ha un'azione di accelerazione, cioè non perde la sua capacità di allenamento, certo va più calmo, però non sta fermo, e permettono all'atleta di avere una caviglia stabilizzata che evita un'altra distorsione mentre la rieduchi e l'atleta in questa maniera recupera più rapidamente. Una volta passati da questa parte di vendaggio funzionale, passiamo sempre con la terapia in mezzo, passiamo al vendaggio chinesiologico che si fa con questi vendaggi colorati che si vedono spesso negli atleti. E questi vendaggi, a seconda di come vengono confezionati dal terapista, possano avere un'azione stimolante, inibente, rilassante, drenante, e quindi a seconda di come vengono confezionati hanno un'azione diversa sul tessuto. E lavora su dei meccanismi riflessi della cute e non hanno farmaco all'interno, però proprio massaggiano e muovono il tessuto mentre l'atleta si muove, la persona si muove e in questa maniera mandano delle informazioni al cervello che permettono al tessuto di recuperare più rapidamente. Quindi decontrarlo, stimolarlo, rilassarlo, sorreggerlo, ha tante funzionalità. E anche in questo caso si ottengono di buonissimi risultati. Sì, ci ha aiutato tantissimo questa tecnica perché ha portato a recuperare molto più rapidamente gli atleti e le persone che conducono una vita normale dello sport della domenica con la possibilità di evitare anche spesso tanti farmaci. Ecco, passiamo invece a questa tecnica terapica di cui parlavamo prima dietro le quinte. Sì. Un nome un po' difficile, da diatermia ad alta frequenza. Diatermia ad alta frequenza, conosciuta anche come pronexibus, che è il nome della macchina, perché appartiene alla famiglia delle diatermie come anche la Tecar, solo che è stata un pochettino stravolta a livello tecnico la metodica perché la Tecar, che è una macchina validissima che ho usato fino a qualche anno fa, ha delle funzioni chiamate capacitive e resistive. Quindi tu hai un manipolo, hai una piastra di richiamo, metti un gel, massaggi sul paziente e hai un lavoro di questo tipo, quindi un massaggio combinato con la macchina e a seconda se devi trattare un muscolo o un'articolazione, cambi la tipologia della frequenza e quindi puoi avere una creazione capacitiva e resistiva. Funziona il corpo più come un condensatore, cioè lui accumula energia per poi rilasciarla dopo. Solo che questo tipo di diatermia lavora facendo in modo che la frequenza che passa, che è una media frequenza, quella della Tecar, passa attraverso gli spazi interstiziali, quindi non attraversa la cellula, passa attraverso gli spazi interstiziali e raggiunge poi la parte che vada a trattare. Invece la diatermia ad alta frequenza lavora a 2, 4 e 8 MHz, quindi vuol dire che le cellule in questo caso lavorano fino a 8 milioni di oscillazioni al secondo, quindi la membrana vibra 8 milioni di volte al secondo ed essendo un'alta frequenza la cellula viene attraversata proprio da questa frequenza e gli studi che sono stati fatti dall'azienda hanno dimostrato che vengono a modificarsi le funzioni sodio, potasso, ioni calcio della cellula stessa. Io ho trattato diverse patologie con questa macchina e devo dire che rispetto all'altra ho dimezzato i tempi di recupero, quindi si può vedere proprio dei risultati eccezionali specie anche su quelli che possono essere gli ematomi più comuni. Infatti chiedevo per cosa viene utilizzata questa macchina? Questa macchina viene utilizzata per tantissimi tipi di patologia. Io adesso ho iniziato uno studio sperimentale sulle cisti di Tarlov che sono delle cisti che si formano all'interno del canale spinale quindi proprio a livello L5-S1 e prevalentemente sull'osso sacro all'interno proprio del canale spinale e queste cisti vanno a comprimere i nervi. Spesso sono inoperabili, quindi i pazienti affetti da questa rara patologia hanno dei dolori incredibili. All'inizio uno ne pensa che sia un nervo sciatico, poi alla fine vai a scoprire che è una cista all'interno della colonna vertebrale che sta comprimendo un nervo. Ci sono persone che si sono fatte operare e non sempre i risultati sono stati eccezionali e hanno dei dolori 24 ore su 24. Con questa macchina sono riuscito a dimezzare il dolore di una media del 70%. Hanno sempre male perché non è risolutiva, ma aiuta a vivere meglio queste persone e mi arrivano da tutta Italia per curarsi con questa metodica. Poi se è possibile posso fare vedere alcuni esempi. Stiamo vedendo in sovraimpressione qualche immagine. Ecco, quello è il post. Prima si potrebbe vedere, allora, ancora sempre il post trauma. Dovremmo andare sulle prime immagini. Vediamo se arrivano. Abbiamo visto un po' di immagini prima, praticamente per tutte quelle lesioni cutanee. Non solo, la diatermia ad alta frequenza ha una capacità, a seconda dei tessuti, è come una cicatrice che si vede il prima e poi solo dopo due sedute siamo riusciti, anche l'effetto cheloide della cicatrice si è completamente risolto. Questa qua è un nematoma di una signora di 84 anni che è caduta nella doccia, quindi ha dei tempi di recupero molto più lenti. Questa è la prima seduta e poi questa è dopo una settimana. E si può vedere. Sì, sì, è stato praticamente completamente riassorbito. Ed è veramente eccezionale. E poi ci sono anche altre foto che ho portato di traumi che ho affrontato. Abbiamo visto prima, mentre andavamo in sovraimpressione. Quindi, caspita, insomma, si ottengono veramente dei risultati incredibili. Sì, penetra fino a 12-14 cm, a seconda dei tessuti, alla potenza che uno riesce ad adottare. Il recupero, l'avevo portato anche un'immagine di un piede di un motociclista che ha avuto una frattura abbastanza importante con lesioni anche cutanee. E questo è qui in giro di... Eccolo lì, ecco. Ahimè. Quello era un piede post-operatorio dopo il trauma. E dopo 60 giorni siamo riusciti a vedere quello che avete visto prima. Quello è un piede completamente recuperato sia nel... a livello... Eccolo lì. Sia a livello proprio d'aspetto, sia da un punto di vista funzionale. Quindi questo atleta ha recuperato completamente la sua funzionalità. Una domanda da devo fare, ovviamente. Perché... Sono tecniche costose? No. Assolutamente no. La macchina sì. Immagino, assolutamente no. Però l'applicazione è un'applicazione che ha un costo a seconda delle zone d'Italia. Certo, certo. Ma comunque non va oltre i 60 euro. Ah, ok. Quindi sono abbastanza... Accessibilissime. Assolutamente sì. Un'ultima domanda che poi voglio farle. Qualcosa abbiamo già detto prima. Qualche consiglio pratico da dare ai nostri telespettatori? Uh, di consigli ce ne sono tanti. Ecco, il consiglio che posso dare... Cioè, ascoltate quello che vi dice il corpo. Cioè, se uno ha male, una volta dice ok, ho male alla cervicale, oppure un dolore a una spalla, oppure sopra la spalla. Va bene, prendo una tachipirina, prendo quello che ho in casa e va bene. Però se questo dolore persiste per più giorni e quindi sono costretto a prendere per più volte dei fans, quindi farmaci, antinfiammatori, non steroidei, ovviamente vuol dire che c'è qualcosa che il corpo mi sta dicendo. Cioè, vai a farti vedere. Perché poi più trascuri questi segnali che il tuo corpo ti dà, più noi impieghiamo tempo a recuperare. Perché ci sono tante traumatologie, come quelle tendine, che insorgono lentamente e tanto quanto insorgono lentamente, altrettanto si riducono lentamente. Quindi non è che poi recuperi alla svelta. No, certo. Perché? Perché non essendo vascularizzato guarisce, in seconda intenzione, a dei tempi di recupero diversi. E questo ovviamente per noi diventa fatica, diventa fatica assolutamente. Allora, non trascurate i segnali che veda il corpo. Se avete mal di schiena, fatevi vedere da un professionista, che sia comunque prima il vostro medico. Poi, insomma, seguite i vostri segnali e poi andate da dei professionisti. dai professionisti, perché improvvisarsi in questo lavoro non ci si può improvvisare. Io sono 24 anni che faccio questa professione, continuo a studiare, continuerò a studiare e ogni volta c'è qualcosa di nuovo da imparare. Immagino. Non si finisce mai. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, ma altrettanto complessa da gestire. Benissimo, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Io ringrazio a questo punto il dottore Andrea Curro, specialista in massoterapia, fisioterapia e riabilitazione sportiva. Grazie, insomma, per averci aperto un po' il mondo della fisioterapia, dell'osteopatia e della massofisioterapia. Io vi do a questo punto appuntamento la prossima settimana con un nuovo tema, un nuovo argomento. Ringrazio la regia, ringrazio l'RBM Group e vi consiglio sempre di seguire i nostri siti www.tecnomedicina.it, quello della trasmissione www.informativ.it e non dimenticatevi di scriverci alla nostra email in redazione www.tecnomedicina.it per chiedere informazioni, per chiedere qualche curiosità che poi noi gireremo ai nostri specialisti o perché no, chiederci magari di affrontare in una delle prossime puntate qualche tema che vi sta particolarmente a cuore. Io vi saluto, vi do come sempre il mio saluto che è buona salute a tutti. Buonasera Buonasera Buonasera